Ciao a tutti, sono Giulia e oggi un'altra proposta ganza per voi, ovvero come liberarsi dai parassiti delle piante con due metodi fatti in casa, il decotto di aglio e il decotto di equiseto. Ma prima di iniziare iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e mettete un bel mi piace. Chi ha piante o coltiva l'orto lo sa che la lotta contro parassiti è senza quartiere ed è molto difficile. Delle soluzioni a livello industriale esistono e sono molto efficaci ma non sempre sono sicure se andiamo a spruzzarle su delle piante che poi vorremmo mangiare, tipo le aromatiche o che ne sono i pomodori, per dirne uno. Con queste sostanze che contengono solo aglio equiseto e un po' d'acqua siamo sicuri che spruzzandole non creeremo problemi né per la pianta né per la nostra salute quando andremo a mangiarla. ad esempio questa pianta che è melissa ha la cicalina. Ora tra tutti i parassiti la cicalina è quella che crea un po' meno problemi perché il suo unico effetto è quello di sbiancare un po' le foglie però siccome io con questa melissa voglio fare la tisana è il caso che se ne vada e quindi questa sarà la nostra cavia una volta fatto il decotto. Per il decotto ci servirà solo aglio e equiseto ma potremmo benissimo farlo anche con l'ortica che è molto efficace ma ha un grandissimo difetto e che quando la raccogli pizzica per cui a me non piace e io non la uso. Partiamo dall'aglio. Io questo l'ho preso al supermercato quindi reperibilissimo, riconoscibilissimo, lo conosciamo tutti, ce l'abbiamo tutti. è un antibatterico naturale, repellente anche per gli esseri umani, infatti quando si mangia l'aglio magicamente non ti si avvicina a nessuno. C'è gente che addirittura ci si fa la tisana quando c'ha la tosse ma no, non è efficace contro il coronavirus che sennò qui si fa come quel tipo che consiglio alle persone di iniettarsi in disinfettate. No. Poi c'è l'equiseto che ora andremo a prendere, è anch'esso un grande reperlente anche se non puzza come l'aglio ed è particolarmente efficace contro i funghi. Prima di andare valgono gli stessi discorsi di sempre, non raccogliete niente se non siete sicuri al 100% di quello che avete davanti e raccoglietene solo la quantità necessaria. Via, si va? Ci serve l'equiseto arvense che vuol dire dei campi, che cresce, domina dove? Nei campi! Per cui facilissimo da trovare ed estremamente riconoscibile con questi ciuffetti tipo ago che lo fanno somigliare a un alberello. Ne prendiamo un paio di apici lunghi una ventina di centimetri. Adesso che abbiamo i nostri due ingredienti dobbiamo spostarci in cucina per fare il decotto, che consiste semplicemente nel far bollire in acqua questi due ingredienti. Potremmo altrettanto efficacemente fare il macerato, che come dice la parola consiste nel lasciare macerare per qualche giorno l'erba, insomma il verde, nell'acqua. Io preferisco sempre il decotto e consiglio anche a voi di fare questo, perché il macerato puzza da fastidio, puzza veramente tantissimo. Il decotto puzza lo stesso, ma molto di meno. E quindi ora andiamo in cucina. Allora siamo in cucina, quindi iniziamo con l'aglio. Devo prendere 5-6 spicchi. Ho pulito 6 spicchi d'aglio, uno si è rotto. Questi erano agli vecchi, che sono perfetti, perché non li avrei mangiati, almeno li utilizzo per qualcosa. E adesso li metto in una pentola con un po' d'acqua. E' circa un litro d'acqua. Io di solito vado a sentimento, quello che mi ci faccio, li metto. E poi accendiamo il fuoco. E lo facciamo bollire per una mezz'oretta. Intanto che l'aglio va, facciamo anche l'equiseto, per cui seguiamo lo stesso identico procedimento. Quindi prendiamo una pentola e ci mettiamo dentro dell'acqua. La quantità di acqua che mettiamo determinerà poi la concentrazione. Possiamo diluirlo dopo, eventualmente. E niente, si strappa proprio brutalmente con le mani. E si mette dentro. Magari senza solisciare tutto come ho fatto io. Questo è obbligato, non ce lo metto. Accendiamo il fuoco. E li facciamo bollire anche questo per una mezz'oretta. E' passata mezz'ora, quindi adesso spegniamo i fuochi e dobbiamo solamente aspettare che raffreddino. Li mettiamo dalla parte. E adesso che si sono raffreddati, sono pronti. Ora non ci resta che versarli con un colino, così la parte erbacea rimane dentro le pentole. Dentro ha degli spruzzini, con cui poi spruzzeremo direttamente le piatte malate. Ricordatevi che si tratta di repellenti e non di insetticidi. Significa che noi non stiamo uccidendo gli insetti, ma li stiamo convincendo ad andarsene. Quindi c'è bisogno che voi le piante le spruzzate con costanza. Quindi, per dire, se incominciamo il trattamento oggi, almeno per due settimane, una volta al giorno o una volta nei due giorni, bisogna spruzzarla. Perché sennò questi ritornano. Vediamo di non far macerli. Vedete? Non so se lo vedete. Il quiseto diventa rosso, quindi macchia. Ricordatevelo anche quando spruzzate le piante. E macchia. Se avete del liquido in eccesso, dopo aver riempito lo spruzzino, potete metterlo in una bottiglia di plastica e conservarlo per quando poi avrete finito quello nello spruzzino. Un'altra funzione molto importante che hanno questi due è quella preventiva. Significa che voi potete, anzi vi consiglio, di spruzzare le piante prima che si ammalino. E così rendete l'ambiente in ospitale per gli insetti prima che questi ci arrivino. Ora riempiamo anche l'aglio. Userò l'aglio perché l'equiseto l'ho già usato e non ho avuto grandi risultati. Quindi, da una scossa e poi si spruzza direttamente sulle foglie. Sì, l'odore non è il massimo, ma però si sopporta. Adesso mi basta proseguire con il trattamento per due settimane e la cicalina dovrebbe essere scomparsa. E con questo si conclude il nostro escurso sugli antiparassitari fatti in casa. Fatemi sapere con un commento se li conoscevate, se li usate e con quali risultati. E noi ci vediamo la prossima volta. Ciao! Ciao! Ciao!